oggi vi farò vedere come fare un bellissimo piatto alla carbonara molto facile, in 3-5 minuti riusciamo a fare una pasta veramente buona eccoci qua, il primo passaggio consiste nel rosolare i 50 grammi di pancetta con 2 cucchiai e mezzo di olio di oliva la facciamo ben rosolare e una volta rosolata la sfumiamo leggermente con un po' di vino bianco questo tende a dargli un lieve retrogusto dolce in un secondo momento mettiamo all'interno di una ciotola il nostro soffritto con l'olio la pancetta con l'olio e un uovo intero, un rosso solo 30 grammi di parmigiano e 10 grammi di burro fuso sciolto al microonde e questo burro tende a dare una maggiore cremosità alla carbonara poi vedremo in un secondo momento appunto quando mantecheremo la pasta vedrete appunto il risultato ecco qua, vogliamo la pasta, ha finito, ora la scolo e vi faccio vedere il procedimento ecco qua, la passo in padella e ora mettiamo tutto il composto ecco qua iniziamo a mantecare chiaramente il fuoco è acceso, la sto ripassando leggermente se è troppo secca ho messo prima ho messo da parte un po' di acqua con la quale ho bollito la pasta ecco qua, mantechiamo, vi faccio vedere, ora impiattiamo ed eccoci qua impiattiamo, impiattiamo, mettiamo un po' di prezzemolo che sulla carbonara sicuramente ci sta molto bene spero che questa ricetta sia stata abbastanza chiara e se vi è piaciuto questo video potete iscrivervi al mio canale dove troverete altri video, altri tutor ed altre curiosità grazie